Dall'acqua nasciamo, di acqua siamo composti. È per questo che il diritto di accesso all'acqua è un diritto fondamentale. Cioè si affida l'acqua alla saggezza del mercato e dei mercanti. Questa è stata la premessa al processo di mercificazione dell'acqua e di privatizzazione della sua gestione del resto. Mercificare ogni bene comune, privatizzare tutti i servizi pubblici sembrano proprio essere tra i principali obiettivi nell'agenda della Banca Mondiale e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il WTO. Obiettivi che evidentemente sono dettati dal capitale finanziario internazionale. La Bolivia è stato d'assedio. La scintilla che ha fatto scoppiare la rabbia che covava da tempo. È stato l'annuncio di un aumento del prezzo dell'acqua potabile del 400%. La Coca-Cola ha investito 10 milioni di euro per lanciare la propria minerale tra i britannici. L'acqua Dasani stava per diventare il gadget preferito dei giovani fissati con la forma quando si è scoperto che la costosa bottiglietta, 1,40 euro per mezzo litro, contiene acqua del tamigi depurata. E nemmeno poi tanto, visto che sono stati rintracciati elevati livelli di bromato, una sostanza cancerogena. Se le guerre del XX secolo, aveva detto, sono state combattute per il petrolio, quelle del XXI secolo avranno come oggetto del contendere l'acqua. L'acqua che non entra mai dentro le armi per impedire loro di sparare. Italia è acqua, un mosaico di incredibili paradossi. A cominciare dal paradosso che ci presenta l'Italia come uno dei maggiori consumatori mondiali di acqua minerale in bottiglia. Ne consumiamo, pensate, il doppio della media europea. Questo primato tutto italiano non soltanto alimenta i profitti delle multinazionali che sono proprietarie dei marchi, ma contribuisce a inquinare l'ambiente con le bottiglie di plastica, i gas di scarico dei tir che se le trasportano su e giù per la penisola. 12 miliardi di bottiglie di plastica ogni anno trasportate da 480 mila tir. Le acque del nord Italia vengono vendute al sud, quelle del centro le portano su al nord, in cui nessuno si preoccupa più di sapere, per esempio, quanti chilometri l'acqua minerale che sta bevendo ha percorso per arrivare sulla sua tavola. Ma la cosa più sconcertante è scoprire che alcuni parametri di qualità previsti dalla legge per l'acqua potabile sono più restrittivi rispetto a quelli richiesti alle acque minerali imbottigliate. Ma com'è possibile che la legge tratti con due pesi e due misure, acque potabili dell'acquedotto e acque minerali imbottigliate? La pubblicità è un po' come l'albero delle monete della favola di Pinocchio. Ci raccontano delle gran balle e noi ci lasciamo condizionari dalla pubblicità anche se non ce ne rendiamo conto. Perché? Perché riceviamo un'informazione che è volutamente deformata. Crediamo, per esempio, che l'acqua del rubinetto non sia buona, non faccia bene alla salute. Scusa, ma tu non berrai mica acqua del rubinetto? No. Perché? No, perché preferisco bere l'acqua in bottiglia. Mi sento più sicuro. No, no, io bevo acqua normale. Perché mi vado a prendere l'acqua normale, non mi piace quella del rubinetto. Quella normale, non quella del rubinetto. In bottiglia. Noi consumatori possiamo pesare come macigni sulle scelte delle multinazionali. Voti ogni volta che fai la spesa, ripete sempre padre Alex Zanotelli. Un altro mondo è possibile. Il cambiamento però o inizia da noi o non comincia affatto. Certo non deve fermarsi a noi, no? Sarebbe un fallimento. Deve diventare contagioso, deve conquistare gli altri. Ma se non cominciamo noi, perché dovrebbero gli altri? E se non ora, quando? E se non lo fa